Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati sempre qui con il vostro MV Hardware in un nuovo appuntamento due chiacchiere, ok, su una delle soluzioni finali che possiamo prendere in considerazione visto la carenza di schede video. Allora, prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale io non è che ve lo dico perché lo devo dire tanto per, ma lo dico affinché voi lo facciate quindi iscrivetevi a questo canale, altrimenti vi lancio un anatema affinché voi non troviate schede video fino al 2000 e c'è il nostro canale Telegram delle offerte dove noi postiamo a volte un po' di componenti schede video poche, ma ogni tanto escono, soprattutto le 1060, 1660 queste schede video qua quindi entrateci perché magari la volta buona che una scheda video la beccate sta il link giù, MV Hardware offerte Allora, come vi dicevo, questa situazione ormai si è consolidata e io mi sento quasi, non lo so, perseguitato mi sento come stalkerato da una marea di domande e questo a vedere da qualche altro mio collega è un sentimento abbastanza comune mi sento veramente stalkerato ovunque, su Telegram, su Instagram, su Facebook, sul mio profilo personale di Facebook che vi ricordo ragazzi, difficilmente vi rispondo sul mio profilo personale su YouTube ovviamente sotto a tutti i video, ovunque e ultimamente anche le persone che mi incontravano per strada e che magari non capivano niente di schede video o di componenti per PC, quando mi fermano e mi dicono eh, le schede video non si trovano, eh, anche loro, non lo so, forse perché fa scalpore comunque abbiamo visto una serie di soluzioni non sono soluzioni diciamo che vi danno le stesse identiche performance o la stessa esperienza di gioco che avreste comprando una 3070 o una 3080 ma ad esempio abbiamo visto che magari in questo momento per mantenere botta come diciamo noi per restare a galla si potrebbe pensare di acquistare una console vi ho fatto vedere la Series S ma anche la Series X e la PlayStation 5 forse un po' di meno delle Xbox ma se siete fortunati qualcosa in giro si trova eh, GameStop quasi periodicamente ok, le mette in vendita sia sul sito che in negozio se ci esistono prenotazioni e cose varie molti di voi stanno comprando queste cose abbiamo parlato dell'eventualità di comprare una CPU con integrata che sia ad esempio una CPU AMD abbiamo visto gli ultimi Ryzen con integrata come ad esempio i Ryzen Pro abbiamo fatto un video sul 4650G dove abbiamo visto che l'integrata va come un'integrata però su qualche titolo e qualche cosa vi permette di giocare c'è Kernan dei Profesi che ha fatto un video interessantissimo sulle performance dell'integrata dell'11600K io vi consiglio di andarlo a vedere perché anche quella può essere un'ottima soluzione in questo momento se voi siete senza scheda video abbiamo parlato del fatto di poter acquistare una serie di schede video usate vi ho fatto vedere una 970 come si comporta ancora oggi e nonostante sia sovrapprezzata perché è una scheda video che è di parecchi anni fa e la trovate a 200 euro quasi vale la pena acquistarla rispetto a tante altre schede che in questo momento costano anche di più ci sarebbero una marea di schede video da prendere in considerazione non posso fare tantissimi video su schede video usate ma anche non lo so una 780 Ti una 1060 se la riuscite a trovare che vi devo dire una 770 da 4 giga un R9 290X che abbiamo visto c'è ancora il video di qualche anno fa qui sul canale quindi abbiamo parlato di tutte queste cose cercando di trovare delle soluzioni nonostante questo vedo che comunque c'è molta 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 perplessità da parte vostra di prendere in considerazione una soluzione piuttosto che un'altra e quindi io sono arrivato alla soluzione finale che sicuramente vi farà acquistare un RTX 3000 se la volete ed è semplicemente quella di andare su Amazon e di comprarvela sovrapprezzata cioè altre soluzioni non esistono se andate a vedere per bene su Amazon non è vero che le schede non ci sono molti venditori le schede ce le hanno il problema è che voi se ve le volete comprare dovete spendere 300-400 euro in più di quello che è il prezzo normale di una scheda ad esempio una 1660 Super non è vero che non si trova ci sono diversi venditori che ce l'hanno la mettono in vendita a dei prezzi intorno alle 500-550 euro ci sta Fabio Store che ha messo la Zotac a 540 in questi giorni un prezzaccio assurdo ma c'è se la volete ve la comprate e giocate con la 1660 Super le 2060-2060 Super si trovano bene o male ad un prezzo intorno alle 6-699 prezzi folli perché una scheda del genere non la pagavamo 400 euro 7-8 mesi fa adesso la paghiamo a queste cifre e a questo punto chi magari vuole comprarla se la compra le 30-60 ci stanno le pagate 900 euro una Ventus magari la riuscite a pagare 950 euro da qualche venditore che la sta scalperando però ce l'ha la volete adesso? la volete in 2-3 giorni spedita? ve la prendete da quello venditore là le 30-70 intorno alle 1.300 se siete fortunati ve le beccate insomma cioè voglio dire non è che le schede non ci sono quelle poche schede che ci sono vengono anche vendute io con questo non voglio assolutamente invogliarvi a comprare schede video a prezzi folli cioè ovviamente questa è diciamo una provocazione che io vi sto facendo ma è una provocazione per invitarvi ok a riflettere sul fatto che i prezzi ormai sono cambiati il valore reale di quelle schede non è più quello che doveva essere il prezzo del lancio non è più 429 euro per la 30-60 519 euro per la 30-70 quei prezzi ormai non esistono più anche le schede che stanno droppando su Amazon vendute e spedite le 30-70 le 30-60 che molti bot segnalano sono aumentati di prezzo anche quelle le 30-70 non si trovano più a 600-650 euro si trovano tutte ormai sopra le 7-750 e iniziate a farci l'abitudine cioè iniziate a rassegnarvi a vedere questi prezzi qua perché probabilmente saranno i prezzi che noi vedremo fino all'anno prossimo se questa situazione forse si risolverà perché è detto anche che non si risolverà e le schede continueranno per anni ad arrivare con i contacucce e ad essere sovrapprezzate mo si parla della 30-80 Ti ma secondo voi quando uscirà sta scheda quelle poche schede che forse vedremo sul mercato ma quando le venderanno i negozi stanno aumentando i prezzi a dismisura ogni settimana gli store online aumentano i prezzi siamo partiti da gennaio settimana dopo settimana hanno aumentato i prezzi di 50 euro mo stanno le 30-70 a 1.400 euro in giro sugli store online per carità non è diciamo una critica agli store che mettono questi prezzi perché i primi ad aumentare i prezzi sono i distributori e i suoi fornitori però iniziate a familiarizzare e a rassegnarvi sul fatto che se volete una scheda del genere ve la dovete comprare sovrapprezzate alternative non ci sta a meno che voi non avete un culo così e riuscite a beccarla spedita da Amazon a qualche prezzo più conveniente o su qualche botto o qualche poveraccio che magari se la vuole vendere una scheda del genere che non è uno scalper e ve la vuole dare ad un prezzo onesto bene ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me che cosa dire grazie mille iscrivetevi al canale lasciate un like e soprattutto attivate le campanelle andatevi a vedere i vari link che ci sono giù e io vi do appuntamenti in settimana con un prossimo video dove parleremo di tutt'altro e continuo a ribadire il fatto che parlerò sempre meno di questa situazione ok? ciao ragazzi